Di grazia ci ritroviamo dopo tante settimane di lavoro, eri curioso, mi ricordo, quel primo giorno che ci siamo visti a Palena, che idee hai avuto dopo queste prime settimane di lavoro con il Pesca? Ah, va bene, 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 nel senso che fare calcio qui è veramente bello perché comunque ti mettono nelle condizioni di far bene, quindi tanta, tanta roba. Presidente, ti racconto questa aneddota nella nostra trasmissione, dieci giorni fa ha detto, si parla poco di grazia ma vedrete che stupida. Sono contento che il Presidente spenda queste belle parole per me, spero di ricambiare la fiducia che mi sta dando in campo con dei risultati speriamo bene. Ci avevi detto il primo giorno a Palena, adesso penso a lavorare, non voglio guardare al mercato, oggi ti senti di dire che resterai a Pescara? No, la mia risposta è sempre la stessa, io ripeto, vivo giorno per giorno e in questo frattempo spero di meritarmi un posto qui con il Pescara. Però dovessero arrivare due esterni offensivi? Io ripeto, ce la metterò tutta, comunque il campo è quello che parla, poi possono arrivare esterni, possono arrivare, se è un bene per il Pescara ben venga. Come ti trovi con i compagni e come ti trovi con questo nuovo modo di fare calcio per te? Bene, benissimo, qua veramente i compagni ti mettono nelle condizioni di stare bene, quindi per un nuovo arrivato è più difficile integarsi nel gruppo, però veramente con il gruppo che c'è quest'anno a Pescara benissimo.